Passo a tutti meravigliosi, gloria a Dio, è meraviglioso essere qui insieme alla presenza di Dio, voglio ringraziare i nostri pastori che ogni volta che ci chiamano a servire Dio in maniera tangibile ci danno questa opportunità e questo onore, grazie. E allora vogliamo partire dalla locandina. Cosa vi dice lo specchio? Contemplare. Noi donne ne sappiamo qualcosa, giusto? Perché io prima di venire qua mi sono data una zizzata, si può dire? Si può dire. E allora leggiamo la parola di Dio in secondo Corinthians 3,18 che dice così. E noi tutti contemplando a faccia scoperta come uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo spirito del Signore. Accomodatevi. Meravigliosa alla parola di Dio? E allora sapete quando il Signore ci chiama a servirlo, ci dà le capacità, perché quando ci chiama non siamo capaci, ma siamo strumenti nelle sue mani. E quando noi ci lasciamo trasformare della sua presenza e della sua parola, come abbiamo sentito anche poco fa, il Signore fa meraviglie nella nostra vita. E il Signore ha da giorni, da settimane, perché quando io devo portare la parola, il Signore non me lo dà, capita quando me lo dà pure il giorno prima di portare la parola, ma questa volta è stato un lavoro da settimane. E ringrazio il Signore perché è meraviglioso. E quando qua dice contemplare come in uno specchio a faccia scoperta. Cosa vuol dire contemplare? Se prendiamo lo specchio che cosa facciamo? Soprattutto noi donne, ci guardiamo fino a quando abbiamo finito, giusto? Ma il significato di contemplare è guardare fisso in un punto. E questa sera il Signore ci vuole portare a stare di più alla sua presenza, a contemplare di più la sua gloria. E sappiamo l'esempio meraviglioso, perfetto è Gesù, che lui ogni volta si dice la parola di Dio si metteva in disparte. Ogni volta che lui pregava saliva sul monte. Lui è papà, meraviglioso. E questo è un insegnamento per la nostra vita, perché noi siamo cristiani, siamo seguaci di Cristo, quindi dobbiamo seguire le orme di Cristo. E che cosa noi dobbiamo fare? dobbiamo fare quello che faceva Gesù, appartarci con il Padre. Ma il Signore mi portava in una storia per me tremenda, fantastica e meravigliosa, nell'Antico Testamento, dove parla di un grande uomo di Dio che ha fatto grande cose. Perché? Perché si è lasciato trasformato dalla parola di Dio. E questa sera ognuno di noi che siamo qui, il nostro scopo, il nostro obiettivo questa sera deve essere proprio quello di essere trasformati della parola di Dio. Continuiamo la parola di Domenica, la trasformazione. E allora andiamo a leggere in Esodo 34, 29-35, perfetto. E dice così. Or Mosè, quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza. Non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta raggiante, perché era stato a parlare con l'Eterno. Già in questo verso c'è potenza. Già in questo verso vediamo il Signore stesso che parla faccia a faccia con Mosè. Andiamo avanti. Così, quando Araon e tutti i figli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo volto era raggiante ed essi avevano paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò ed Araon e tutti i capi dell'assemblea ritornarono da lui e Mosè parlò loro. Dopodiché tutti i figli di Israele si avvicinarono ed egli ordinò loro di fare tutto ciò che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. Come Mosè ebbe finito di parlare con loro, mise un velo sul suo volto. Quando però Mosè entrava davanti all'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché usciva fuori. Uscendo fuori diceva ai figli di Israele ciò che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano che la pelle di Mosè era raggiante. Poi Mosè rimetteva il velo sul suo volto, fino a quando entrava a parlare con l'Eterno. Qui vediamo l'esempio meraviglioso di Mosè, la riverenza che lui aveva quando lui entrava alla presenza del re del re. Ogni volta che noi andiamo alla presenza di Dio, dobbiamo sapere che abbiamo un Dio meraviglioso, tremendo, grande e meraviglioso e noi dobbiamo entrare con una santa riverenza, un santo rispetto, sapendo che Dio non soltanto è meraviglioso ma soprattutto è santo e quando noi entriamo alla sua presenza, entriamo alla presenza del santo. Amen. E qua vediamo cosa è successo nella vita di Mosè. Allora penso che ognuno di noi conosciamo un po' la storia di Mosè, giusto? Qua è quando lui è sceso dopo 40 giorni e 40 noti che è stato, dove è stato? Sul monte, sul monte Sinai, dove ha ricevuto le tavole della legge, dove ha ricevuto quello che oggi noi leggiamo nella Bibbia i dieci comandamenti. Amen. E che cosa è successo nella vita di Mosè? E allora sappiamo, Mosè è giusto? Mosè è bambino, piccolino. Già Dio, vedete quanto è meraviglioso nella storia di Mosè? Perché ancora di più comprendiamo quanto Dio ha un progetto per la nostra vita fin prima della fondazione del mondo. Prima che Mosè nasceva Dio aveva un progetto per la sua vita e come per Mosè duemila e rotti anni fa, così oggi, per ciascuno di noi. Dio ha un progetto, un piano meraviglioso. Ma quando questo piano meraviglioso di Dio si addiempie nella nostra vita? Nel momento in cui noi facciamo di Dio quello che ha fatto Mosè, che cerchiamo la faccia di Dio e stiamo alla presenza di Dio, contemplando come in uno specchio. Perché noi quando andiamo alla presenza di Dio dovete sapere che Dio sa tutto di noi. Magari ci possiamo nascondere di coloro che ci vedono, di coloro che ci stanno attorno, ma davanti a Dio siamo scoperti, siamo nudi. E mi piace Dio perché nella sua immensa grazia, come dice un canto, che si è chinato su di noi. Nella sua immensa gloria Dio ha guardato noi e se ne prea. Amen. Perché noi siamo quel progetto perfetto. Amen. Ed è meraviglioso. Io, leggendo la storia di Mosè, giustamente lo sappiamo, Mosè, come stavo dicendo, è nato e già per la sua vita, per il popolo nemico, c'era già scritto morte sulla sua vita, sulla sua carta d'identità. Ma Dio aveva scritto vita. È vita in abbondanza. Sappiamo la sua storia. Sua madre, per proteggerlo, l'ha messo in una cesta. Che grande donna di fede. Wow. Queste siamo noi mamme. Questo dobbiamo fare. Portare i nostri figli in quella protezione che veramente, metterli nella palmo di Dio, nella mano di Dio, ogni giorno, ha protezione, a salvezza, liberazione di tutti gli attacchi del nemico. Amen. Perché sappiamo, abbiamo un nemico, dobbiamo essere consapevoli di questo. Che cerca, come un leone ruggente, che va attorno, cercando chi possa divorare. E se noi mamme, che abbiamo questa grande responsabilità, anche i papà, ma soprattutto le mamme, non abbiamo fatto nulla. E oggi la parola di Dio ci viene a incoraggiare proprio in questo. di portare i nostri figli in una protezione, in una... si dice qua, certe volte dice, non è che lo possiamo mettere sotto una bolla di vetro. No. Ma lo possiamo mettere nelle mani di Dio, che è più sicuro di metterlo sotto una bolla di vetro. Amen. E quindi sua mamma lo mette nella cesta, lo mette nel nilo. E chi lo va a trovare? una principessa. E lui cresce come un principe. Però all'età in cui lui era maturo, all'età che lui ha raggiunto quella statura che poteva fare il piano di Dio, quello per cui Dio l'aveva chiamato, che cosa è successo? Lui ha scelto. Ha scelto lui. Lui poteva dire, ma io sono un principe. Io sono cresciuta nella casa del faraone. Io sono... invece no. Lui ha scelto di essere deriso, di essere vituperato con il popolo di Dio. E sappiamo la storia di Mosè. Sappiamo quello che ha attraversato per i quarant'anni nel deserto. Sappiamo che... sì, lui stava alla presenza di Dio, ma c'era un popolo che ogni volta che non era contento, perché come sappiamo, come dice la parola di Dio, il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Questo dice la parola di Dio. Non era mai contento. Avevano la manna e non erano contenti. Avevano... dico, per quarant'anni non si sono logorate scarpe. Per quarant'anni avevano sempre i stessi vestiti. Per quarant'anni noi qua ci cambiamo quante? Due, tre, quattro, cinque... non lo so quante volte al giorno, perché abbiamo giusto, abbiamo vestiti, abbiamo scarpe. Ma è nel deserto, per quarant'anni. Io mi facevo la domanda, ma il piede di questi ragazzi, perché giusto c'erano pure ragazzi, non cresceva? Non lo so. Il Signore faceva crescere i ragazzi e facevano crescere pure le scarpe. Tremendo! Wow! Perché se ci riflettiamo, dici... certo, perché giusto uno cresce in altezza e cresce, giustamente, se prima io... se io prendevo quando ero piccolo, facciamo così, la misura da bambina, oggi giustamente mi vesto da donna, giusto? Invece per quarant'anni, Dio fantastico, meraviglioso. E quindi Mosè ha scelto. Quindi è una scelta di ciascuno di noi. Scelte forte dimostrano chi siamo realmente. Se noi siamo cristiani, noi siamo chiamati ogni giorno a fare scelte, scelte coraggiose. Scelte che certe volte nemmeno noi li comprendiamo. È vero? Vero! Perché tu dici, Signore, ma... non è come con me, né? Ma non ti deve convenire a te. Devi essere certo che è nella volontà di Dio. Perché Mosè poteva dire, aspe, ma se io a pensare, giusto, che devo uscire di qua, che era bello protetto, bello era... devo andare fuori, devo subire tutto quello che è il popolo, tutto quello... o sai che ti dico? Ma io mi stai a cagare, signor Bono. Invece no. Invece no. Ha scelto tutto quello che comprendeva essere con il popolo di Dio. E noi oggi, per il paese, anche se cristiana, è gloria a Dio! Tu quando ti decidi? Amen! Dobbiamo essere quella generazione che influenza questa generazione. Amen! Perché noi siamo benedetti e siamo di benedizione. E io vi dico una cosa. Ultimamente, non so, è successa una cosa strana. Perché? Perché io ultimamente, nella mia vita personale, familiare, non vivo più per le circostanze attorno a me. Ma io vivo per quello che credo. La parola di Dio mi dice, tu sei forte. Amen! Magari è vero che sono antichiamaccata, ci può stare. Ma la parola di Dio mi dice, tu sei forte. Amen! E io questo credo, io questo dichiaro. Io circa tre settimane fa sono caduta. Una bella caduta. Se mi accordavo con la circostanza, ma ho il piede nero, ma mi sento male. Ma mi fa male. Era cosa di fare cosa? Di mettermi là sul divano, con il ghiaccio, con la tachipirina. No! Per le lividure di Gesù, io sono stata guarita. E io non mi accordo con la circostanza. Sì, è vero, zoppico. Ma non mi interessa. Io ho un Dio santo e meraviglioso da servire. E io vado avanti. Non mi interessano le circostanze. Ah, ma sai, per ora è il lavoro. No! La parola di Dio mi dice che io sono benedetta. E se io sono benedetta, sono di benedizione. E il Signore mi benedisce. E gloria a Dio funziona. Quando ci dico, papà, sai, sta cosa. Certe volte, nelle nostre preghiere, nemmeno c'è bisogno di parlare. Perché Dio è meraviglioso. Ma sapete cosa succede? Mi mandi la prima immagine. Cosa abbiamo qua? Che bello, vero? Certe volte ci guardiamo allo specchio e come ci vediamo? Come questo gattino. Piccoli, piccoli. Senza... Indifesi. Senza... Così. La seconda immagine. Guardate come ci vede Dio. Come ci vede Dio? Leoni! Leonese! Amen! Per il regno di Dio. È vero, certe volte tu dici, ma dove devo andare, Signore? E Dio ti dice, tu devi andare, perché tu devi conquistare. Perché io ho messo in te lo Spirito Santo. Perché io ho fatto di te uno strumento potente per la mia gloria. Perché io voglio fare di te una cosa straordinaria. Non è per esaltarci oppure per essere... Magari dici sì, vabbè. No, è perché questo ci dice la parola di Dio. Amen! Perché Gesù, quando era sulla terra, faceva i miracoli. È andato a noi questa autorità, questa potenza. E oggi noi, con Gesù, ce la possiamo fare. Perché lo dice la parola? Perché la parola di Dio è verità. Dio, con la parola, ha creato l'intero universo. E noi, con la parola, creiamo. E possiamo creare fede nella nostra vita. Oppure, no, io stamattina sono una gattina. Dove devo andare, Signore? No! Ogni mattina io sono una leonesa che esco fuori, combatto e vinco. Porto vittoria. Perché Dio già mi ha dato la vittoria in ogni area della mia vita. Amen! E qua mi piace il versetto 29 che dice, Mosè scese dal monte Sinai, non sapeva che la pelle del suo volto era diventata interaggianta perché era stato a parlare con l'Eterno. Amen! Quando avviene tutto questo nella nostra vita? Quando noi da gattini ci sentiamo leonio e leonese? Quando noi stiamo alla presenza di Dio? Quando noi permettiamo a Dio di trasformare la nostra vita? Certo, non è semplice, non è facile, ma con Dio dalla nostra parte ce la possiamo fare. Amen! E allora Mosè conosceva bene la presenza di Dio e la sua potenza. E andiamo a leggere in Esodo 33, da 12 a 15, che dice così. Poi Mosè disse all'Eterno, vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, ma tu non mi hai fatto sapere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e hai pure trovato grazie ai miei occhi. Cosa ci dice qua Dio a Mosè? Io ti conosco personalmente. E non solo che ti conosco personalmente, ma hai pure trovato grazie ai miei occhi. Amen! Dio a ciascuno di noi ci conosce personalmente, non soltanto a Mosè, ma a ciascuno di noi, a ciascuno che ha scelto di affidare la propria vita nelle mani di Dio. E dice qua, ti conosco personalmente e hai pure trovato grazie ai miei occhi. Noi oggi abbiamo trovato la grazia, il favore, i meritato davanti al trono della grazia. Oggi noi abbiamo la porta aperta per poter entrare nella presenza di Dio e spandere il nostro cuore. Perciò ora, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, dè, fammi conoscere le tue vie, perché ti conosca e posso trovare grazie ai tuoi occhi. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. L'Eterno rispose, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Mosè allora disse, se la tua presenza non viene con me, non facci partire da qui. Amen? Meraviglioso. Mosè aveva compresso quanto era preziosa la presenza di Dio nella sua vita. Mosè aveva compresso che senza Dio non poteva andare da nessuna parte. E qua gli dice, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. E l'Eterno che cosa ci risponde? La mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Questa è una parola di guarigione. Amen? Perché Dio sapeva tutto quello che Mosè, durante gli anni, durante tutte le situazioni che ha dovuto attraversare, l'uscita dell'Egitto e tutto quanto, lo sapeva cosa ha attraversato e cosa pure doveva attraversare. E qua gli dice, io andrò con te e ti darò riposo. Dove possiamo trovare riposo? È vero, penso che ciascuno di noi questa sera qui magari è arrivato stanco e ci sta perché magari dopo una giornata di lavoro va bene, ma dove troviamo riposo? Il vero riposo lo troviamo soltanto alla presenza di Dio. Amen? E quando noi abbiamo scelto di seguire Gesù, Gesù non ci dice, venite dietro a me e andrà tutto alla grande. No. Saremo degli illusi. E Dio non ci vuole illudere perché Dio ci ama e il suo amore per ciascuno di noi è grande. Amen? E ci dice che ogni giorno noi dobbiamo appartarci per poter fare quelle scelte, quelle scelte che ci portano sempre di più alla presenza di Dio. Io per ora dico, Signore, voglio sempre di più della Tua presenza perché oggi ho compresso che senza la presenza di Dio non possiamo fare nulla. E ancora oggi c'è tanto da togliere nel mio carattere perché questa parola quando è arrivata un po' perché so, perché ognuno di noi si esamina a se stesso, sa davanti allo specchio della parola di Dio dove siamo mancanti. E io sono mancante in tante cose ma so una cosa che con Dio al mio fianco io sono più che vincitrice e a parte questo so che sono nella volontà di Dio. Amen? E quando Dio guida i miei passi per fare la sua volontà dove me ne potrei andare? Amen? Io sono grata a Dio per le meraviglie che ha fatto nella mia vita e che sta facendo nella nostra comunità perché grazie a Dio stiamo vedendo cose grandi e ancora Dio, per come abbiamo sentito, ne farà di più grande perché ancora c'è fuori un popolo per trarne fuori e io voglio essere una Mosè. Siete con me? Chi vuole essere con me? Amen? Per trarne fuori da questo mondo il più possibile. E ogni occasione è buona. Dici ma io sono troppo piccola sono in prima elementare. Sai dire Gesù ti ama? Già basta. Ma io no, mi pare malo. Che dire? Io no. Gesù su quella croce non sei vergognata di me e di te. Gesù su quella croce ha portato i miei peccati, le mie malattie, i miei dolori e se li ha caricati. E io oggi non mi vergogno dell'Evangelo. Non mi vergogno di testimoniare che Gesù Cristo è il Signore della mia vita, e della mia casa. Amen? E quindi veramente ognuno di noi dobbiamo essere un piccolo Mosè che stiamo davanti a Dio per portare i bisogni degli altri. Perché molte volte noi non possiamo parlare alle persone di Dio. Ma a Dio possiamo parlare delle persone. Perché nessuno ce lo impedisce. Perché certe volte dici no vabbè non mi interessa. Ma a Dio no. Dio ti dice sì figa mia ti ascolto. E allora per chi dobbiamo pregare? Per i tuoi genitori. Sì sono qui. Ti ascolto. E non soltanto ti ascolto. Ma ti esaudisco nel tempo opportuno. Certe volte vogliamo vedere Dio all'opera nella nostra vita a schiocchiare delle dita. Ma non funziona così. Dio si deve cercare in ogni tempo. in ogni stagione della nostra vita. Quando le cose ci vanno come vogliamo noi. E quando le cose non ci vanno come vogliamo noi. Amen. Ma Dio va cercato la sua presenza in ogni tempo. Perché qua Mosè aveva questa piena consapevolezza. che se Dio non era con lui lui non aveva dove andare. E io voglio arrivare a questa consapevolezza. Ogni giorno sempre di più. Sì ce l'ho la consapevolezza che Gesù è sempre con me. Ma voglio di più. Voglio di più. Perché nel momento in cui tu hai la presenza di Dio con te e hai la presenza dello Spirito Santo ti fa dire mezza parola a quella persona che magari per una vita l'ha evangelizzato e non ha voluto mai sentire niente. Ma in un momento in un attimo guidati dallo Spirito Santo rilasciamo quella parola di benedizione e quella parola porta frutto. E quella parola è efficace nella vita di quella persona. E oggi più che mai ragazzi siamo chiamati a fare la differenza. Come abbiamo sentito scelte forte Mosè ha lasciato tutto. 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 Per seguire Cristo. Noi siamo disposti mi è piaciuta la slide che ha mandato Simone siamo disposti a lasciare il nostro telefonino cinque minuti al giorno e prendere la Bibbia. Sela. Ognuno si dia la risposta. Amen. Perché tante volte spendiamo tanto tempo nelle stupidaggine di questo mondo e poi no ma io non ho tempo di leggere la parola no ma io veramente la giornata di quante ore è fatto? 24? Io lavoro circa 17-18 non mi ricordo ma lo trovo il tempo per leggere la parola perché è importante perché oggi ho compreso che senza la parola io non posso andare da nessuna parte. Io sono quel che sono per la grazia di Dio. Io ho quello che ho per la grazia di Dio. Amen. E questo deve essere chiaro nella nostra vita ragazzi. Possiamo cercare nella nostra vita di compiacere il nostro ego no? Il nostro in ogni in ogni cosa ma la soddisfazione più grande lo sapete qual è? Quando tu leggi la parola e Dio ti dice io ti amo tu sei preziosa ai miei occhi tu sei stimata e Dio ti amo Dio ti sta dicendo che ti ama. Amen. Per me questa è la soddisfazione più grande perché grazie a Dio io ho una famiglia che mi ama grazie a Dio ho una chiesa che mi ama grazie a Dio ma più di tutti e prima di tutti ho papà che mi ama di più. Amen. Ed è meraviglioso come dice oggi noi abbiamo lo Spirito Santo che ci guida come dice la parola in ogni verità. Amen. E oggi noi siamo consapevoli se quella cosa è nella volontà di Dio oppure no. Amen. Mosè si avrebbe dovuto fare le domande A, E, I, O non sarebbe stato oggi un testimone di fede. Oggi non avremmo parlato di Mosè avremmo parlato magari di qualcun altro ma Dio nella sua immensa grazia ha scelto come ho detto all'inizio strumenti deboli nelle sue mani e nessuno deve dire no sono troppo piccolo no sono troppo timido no c'è Gesù con te se c'è Gesù con te non c'è nessun problema sarà pure vero ma la parola di Dio cosa ti dice? Io ho vinto ogni timidezza Amen. Ah no io ho vinto ogni timidezza io ho vinto ogni timidezza Amen. lo dichiari lo credi e quello avviene nella tua vita Amen. E' veramente il Signore è meraviglioso perché ci fa ogni giorno sempre di più innamorare di Lui della Sua parola e il mio desiderio per voi ragazzi è proprio quello vedervi sempre di più innamorati scusate della parola di Dio perché ricordatevelo nella vostra vita la differenza lo farà la parola di Dio quanto più noi conosciamo della parola di Dio tanto più noi saremo trasformati Amen. E come dicevo poc'anzi dobbiamo sapere che abbiamo un nemico che verrà sempre a cercare di togliere quel tempo prezioso di leggere la parola poco fa mio figlio ci dicevo questo sopra la macchina il nemico certe volte ci sembra che deve venire tipo l'orso che ti viene a dare no il nemico ti viene con piccoli scamotage quelli giusti per farti spendere il tuo tempo nei tuoi piaceri mondani che possa essere il telefonino che possa essere stare sul divano che possa essere la playstation che possa essere quel tempo che tu al posto di dedicarlo a Dio lo dedichi a quelle cose che non c'entra niente con la presenza di Dio e dicevo mio figlio quando il nemico nella tua vita riesce a rubarti quel tempo prezioso della preghiera è del leggere la parola di Dio è riuscito a fare di te di portarti a tappetino perché la parola di Dio ci apre gli occhi e ci fa capire chi è Dio e la preghiera che cosa fa? La preghiera rinforza il nostro spirito e quando noi preghiamo quando noi ci mettiamo davanti a Dio e diciamo Signore è vero questa cosa quest'altra cosa e soprattutto quando Dio vi risponde nelle vostre richieste è glorioso e oggi questa sera vogliamo veramente prendere posizione di fede posizione di dire come Mosè Mosè 40 giorni e 40 noti è stato nel verso prima del capitolo 34 e così Mosè rimase là con l'Eterno 40 giorni e 40 noti non mangiò pane né beve acqua e l'Eterno scrisse sulle tavole la parola del patto i dieci comandamenti non l'ho fatta prendere è il versetto 28 del capitolo 34 di Esodo amèn 40 giorni e 40 noti senza mangiare e senza bere e poi il Signore mi portava quando Gesù ha detto al nemico quando Gesù era pure stanco nel deserto dopo 40 giorni di tentazioni che cosa ha risposto Gesù sta scritto non soltanto di pane vive l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca del Padre amèn e questo è meraviglioso perché sì possiamo essere stanchi possiamo essere affamati ma dove ci possiamo saziare dove ci possiamo rinfrancare le nostre ginocchia vacillanti alla presenza meravigliosa del nostro Dio amèn e questa sera vogliamo prendere autorità su ogni distrazioni su ogni situazione che si presenta prima della presenza di Dio nella nostra vita e dobbiamo fare come Mosè se tu non vieni con me io mi muovo io sono qui non perché sono capace ma perché ci dice al Signore Signore tu avanti e io appresso se no io mi muovo come Mosè e ognuno di noi dobbiamo fare come Mosè come ha fatto Mosè in ogni scelta della nostra vita Signore tu sei con me ma questa scelta è secondo la tua volontà o è secondo la mia testa secondo i miei comodi secondo se è secondo la tua volontà perfetto ma sappiatelo che ogni giorno che il Signore ci chiama a fare delle scelte sono quelle scelte coraggiose e scelte che nel tempo poi si vedono i risultati e si vedono i frutti amèn la scelta di Mosè è stata forte non so se qualcuno di noi si sarebbe trovato nel suo posto se avrebbe fatto questa scelta soprattutto di questi tempi penso a nessuno perché si sta troppo comodi nel stare bene nell'essere coccolati nell'essere ma Lui ha scelto siamo disposti a fare questa scelta io la voglio fare siete con me amèn ci vogliamo alzare e veramente vogliamo chiedere allo Spirito Santo che ancora in questa sera questa parola possa essere sigillata nei nostri cuori che possiamo veramente scegliere ogni giorno sempre di più la presenza di Dio la parola di Dio e fare ogni giorno sempre di più quelle scelte forti e coraggiosi per dare gloria a Dio amèn e vogliamo lodare il Signore amèn i nostri occhi fisici chiusi ma quelli del cuore come sto detto all'inizio aperti per contemplare la gloria di Dio per avere i pensieri della nostra mente sottomessi ai pensieri della mente di Dio affinché possiamo parlare ciò che è del cuore di Dio e arriva alla nostra bocca alziamo le nostre mani adoriamo contempliamo il nostro amato Signore perché tutto ciò che vogliamo è stare con Te Signore voglio ammirare la Tua gloria apri i miei occhi Signore restare in Tua presenza è ciò che io amo di più voglio ammirare la Tua gloria apri i miei occhi Signore restare in Tua presenza è ciò che io amo di più sentire il cielo dentro di me ed essere uno con te trovare tutto ciò che il mio cuore abbia sognato mai fammi vedere la Tua gloria so che c'è ancora di più apri le porte del cielo l'anima per la Tua gloria so che c'è ancora di più apri le porte del cielo L'anima mia brava a te Santo sei Signor Potente Il tuo amore Grande in la stanza Contempliamo la tua gloria Santo sei Signor Potente Il tuo nome Grande in la stanza Contempliamo la tua gloria Contempliamo la tua gloria Contempliamo la tua gloria Contempliamo la tua gloria La tua gloria Trasformaci Signore Contempliamo di più il tuo mondo Signore Mostrati con tutto il tuo potere Perché sei santo 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 sei Signor Contempliamo la tua gloria 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 Carmi 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 Alleluia Mentre stavamo adorando Vedevo dei focolai Dei focolai che si accendevano E che bruciavano E questa sera Se qualcuno di voi Vuole accendere quel focolaio Che brucia d'amore per Gesù Nel posto dove è stato messo Nella casa, nella famiglia Nel posto di lavoro In ogni aria Alza la tua mano E chiede al Signore Che la sua presenza E la sua benedizione Possa arrivare sempre di più Nella tua vita E che quel focolaio Possa trasformarsi In un fuoco ardente Stasera Di stare Alla tua presenza Di contemplare La tua gloria Nella nostra vita Perché tu sei sovrano E ti vogliamo chiedere Spirito Santo Sigila questa parola Nel nostro cuore Per farla Signore Dio Uscire fuori Al momento del bisogno Signore Grazie Spirito Santo Ti voglio chiedere Per tutti questi ragazzi Che hanno alzato Le loro mani Signore Di benedirli Signore Dio E ancora di più Spirito Santo Di ungerli dall'alto Signore E infocarli Sempre di più Signore Per la tua gloria Grazie Spirito Santo Perché per certo Tu lo farai Grazie Padre Ti benediciamo Signore Dio E ti ringraziamo Per ogni cosa Nel nome di Gesù Amen Amen